Cosa hai detto? Al grande fratello, Letizia sconvolta per il ritorno di Beatrice, nessuna tregua una serata significativa al grande fratello, specialmente nella puntata dell'8 gennaio, quando Beatrice è rientrata dopo la dolorosa perdita del padre. Appena rientrata, però, le parole di Letizia hanno già scatenato discussioni, mostrando il suo apparente disappunto per il ritorno dell'attrice. Gli spettatori hanno sentito una frase che promette di alimentare polemiche. Dopo l'entrata di Beatrice nella casa del grande fratello, Letizia non è riuscita a trattenere le lacrime e si è rifugiata tra le braccia del coinquilino Paolo. Nonostante abbiano cercato di tenere nascosti i loro pensieri, gli utenti hanno riferito le presunte parole dei due compagni di avventura, scatenando così la prima grande controversia dopo la puntata. Pochi minuti dopo il ritorno di Beatrice al grande fratello, si è scatenato il caos per ciò che Letizia avrebbe detto a Paolo. Mentre i due si abbracciavano, la fotografa avrebbe sussurrato qualcosa al coinquilino, suscitando ovviamente una reazione da parte sua. Quando è arrivato il momento di salutare Letizia, Beatrice avrebbe esclamato, adesso siamo in due, presumibilmente riferendosi al fatto che entrambe abbiano perso il padre. Tuttavia, sembra che Letizia abbia frainteso il commento di Beatrice e lo abbia interpretato come un attacco personale. Secondo la ricostruzione del pubblico, avrebbe confidato a Paolo, non la sopporto, è il mio unico punto debole. Alla quale Masella avrebbe risposto, non lasciartela vincere, fregatene. Anche se circola un'altra teoria online.